In risposta alla lettera indirizzata al Vescovo di Lucera Troia da parte del Sindaco di Troia Leonardo Cavalieri, tramite la quale è stata chiesta la possibilità di dar vita alla processione dei Santi Patroni con modalità che rispettino le norme anti-Covid, Monsignor Giuseppe Giuliano ha comunicato che si ribadiscono le disposizioni della Conferenza Episcopale Pugliese che vietano ancora per quest'anno le processioni anche in forma estemporanea. Queste disposizioni sono pienamente condivise dalla Prefettura di Foggia, interpellata a tal riguardo dal segretario della Conferenza Episcopale Pugliese, ha rimarcato il Vescovo nel suo comunicato e sottolinea che l'intento dell'autorità ecclesiastica è esclusivamente quello di tutelare la salute del popolo ancora minacciato dalla non finita pandemia.